L'innovativo progetto Sulla scia della storica iniziativa Ripartiamo dalle periferie, avviata nel 2013 con lo scopo di riqualificare e dar vita ai luoghi suburbani della città, i volontari hanno voluto spingersi verso periferie insolite. La scelta dei luoghi è ricaduta su due piazzette di ruvo di Puglia, Largo San Giacomo e Largo San Giovanni. Il tema cardine del progetto è stato ancora una volta quello sociale, diretto alla riqualificazione e alla sensibilizzazione urbana. L'associazione infatti intende far riscoprire la bellezza dei luoghi scelti per renderli nuovamente attivi e attrattivi dal punto di vista sociale. L'iniziativa, con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia e la partnership delle associazioni a Puglia Terre, Torre Normana di Terlizzi, Proloco di Ruvo di Puglia e Uagig delle Revetole, si è svolta il 25 novembre e il 2 dicembre esponendo come filo conduttore la riscoperta del passato, da quello più remoto del Medioevo a quello più recente dei nonni, tramite lavorazioni, pratiche e messieri oggi scomparsi. Durante le due serate i visitatori hanno degustato prodotti tipici locali, con la collaborazione di Cataldo Minafra, della Cantina di Ruvo di Puglia e dell'azienda Dolce Fiore Ruvo di Puglia. Si è aperto così un nuovo capitolo di socialità cittadina, che vedrà, in futuro, ulteriori importanti novità. Grazie a tutti.